Altro che lupi, a Valstagna a mettere in ginocchio gli agricoltori valligiani sono i caprioli, tante le chiamate giunte alla nostra redazione da parte di gente che in questi giorni si è trovata l'appezzamento di terra coltivato con cura e pazienza devastato dagli ungulati. In alcuni casi si sono presentati ben due volte di seguito nello stesso luogo radendo completamente al suolo tutto ciò che stava crescendo. Inutili le recinzioni apposite posizionate per tenere alla larga gli animali. La proverbiale agilità dei caprioli ha fatto sì che superassero ogni barriera distruggendo i raccolti e la gente è davvero stanca di questa situazione.